Possiamo dare inizio alla sessione riguardante gli aspetti sociali, legali e poi ci sarà un ulteriore spazio per le domande. Invito l'avvocato Maria Cristina Tabano a venire a fare la sua presentazione che riguarda gli aspetti civilistici e penali della tutela dai campi elettromagnetici. Buonasera a tutti. Mi ricollego alle domande che sono state fatte per ultime. All'attività che è stata svolta da dieci anni a questa parte, da alcuni legali, da alcuni avvocati, insieme ad altri scienziati, per far emergere questa problematica, per dare conoscenza ai cittadini del problema dell'esposizione ai campi elettromagnetici. In questo escursus giurisprudenziale, che in parte ho riportato nel commento che leggerete in questa brochure che vi è stata data, si evidenzia che paradossalmente prima della legge 2001 numero 36 e prima ancora che venissero fissati dei limiti stretti, legali, vi era un'attenzione maggiore dei giudici, dei giudici amministrativi, verso quel principio di precauzione di cui si è parlato che impone una tutela preventiva proprio perché poi, così come rappresenta l'esponente del Ministero della Difesa, come poi si rappresenta nei processi, c'è la difficoltà di andare a individuare con certezza il nesso di causalità. quel nesso di causalità che collega la malattia alla esposizione a gente inquinante, in questo caso al campo elettromagnetico, che non può richiedere anni e anni di tempo di ricerca, di accertamento, ma impone un'attività di prevenzione laddove appunto le persone, i cittadini sono informati della possibilità che si possa verificare un danno. Quindi prima del decreto 381, prima della legge 36 del 2001, vi era questa attenzione e questa tutela. Successivamente con la determinazione legale di limiti è diventato più difficile affermare questo diritto. Sotto il profilo amministrativo dei TAR, dei consigli di Stato, Tribunale Amministrativo Regionale, eccetera, una volta individuato da parte, ad esempio, dell'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, il non superamento della soglia, automaticamente l'impianto radiobase è a norma. Questo chiaramente rappresenta una sconfitta per chi combatte per la tutela dei campi elettromagnetici. E vengono indicati dei limiti che sono risaputi che sono non superati dagli impianti radiobase, quindi sono stati scelti ad occhi in 6 voltometro, perché laddove vai a fare una misurazione, sicuramente tu non superi quei limiti, quindi rientri nella legalità. E tuttavia oggi vi è la possibilità comunque da parte del Comune, quindi dell'autorità amministrativa, che ha il governo del territorio, di dettare una localizzazione degli impianti. Quindi vi ho riportato delle sentenze del TAR e Consiglio di Stato, dove si dice che il Comune, nel suo ambito di potere di gestione del territorio, può indicare sotto il profilo urbanistico, attenzione, urbanistico, dei siti dove andare a installare questi impianti radiobase. È chiaro che l'obiettivo del Sindaco, del Comune, deve essere quello della tutela della salute, ma poiché nella nostra legislazione la tutela della salute è affidata allo Stato, al legislatore, sarà a cura del cittadino, del sindaco, del primo cittadino, con gli altri specialisti, individuare i siti che tutelino la salute e nel contempo siano urbanisticamente legittimi, attraverso anche delle conferenze di servizi con i comitati e con la contrapposta parte, chiaramente, ovvio, con le società di telefonia, individuando dei siti che possono non nuocere. E questo poi si ricollega al problema della lottizzazione, un po' come è avvenuto poi a Cesano, no? Cioè, a dire, se io so già che esiste un impianto inquinante, perché continuo a costruire vicino a quell'impianto? E poi mi si dice, il legale di Radio Vaticana, dove uno dei consulenti, il dottor Veronesi, per esempio, ex ministro della salute, poi mi si dice, ma è colpa tua che costruite e ci sei andato a abitare. In questo modo, diciamo, dando alla tutela della salute un input minore, mentre noi sappiamo che la tutela della salute dell'articolo 32 della Costituzione ha priorità rispetto alle altre esigenze. Quindi il comune, i cittadini all'interno del comune possono pretendere che vengano individuati dei siti dove andare a immettere gli impianti radiobase. Il problema dei limiti. Il problema dei limiti, quindi, ci porta a noi avvocati col supporto degli specialisti, perché senza gli scienziati, senza questo convegno, senza altri convegni, non si potrebbe decidere nulla a livello giurisprudenziale, perché queste sono tutte prove documentali che poi vengono portate nei processi. Quindi a livello di valori e di limiti, passando al giudice ordinario, che sono i tribunali civili, quindi non più il TAR, il giudice amministrativo, che cosa ci dice la Cassazione? Ci dice che non è vero che una volta rispettato il limite, l'impianto è a norma, grazie a Dio. Ci dice che nel momento in cui noi dimostriamo e dobbiamo provarlo attraverso le istruttorie, portando i dati epidemiologici, le statistiche, le certificazioni mediche, con l'aiuto di questi scienziati, perché poi questi scienziati qui a che titolo stanno? Stanno a titolo gratuito, no? Non sono gli scienziati delle società, delle grandi lobby che vengono pagate, sono scienziati che portano l'informazione alla popolazione. Poi certo la popolazione potrà dire ma che me frega, voglio essere esposto, e un altro invece dirà ah no, io veramente vorrei una tutela maggiore. Quindi grazie a questi documenti il giudice potrà dire come è avvenuto per Radio Vaticana fino in Cassazione, ci abbiamo messo dieci anni per avere una sentenza, dieci anni dove abbiamo dato informazione ai cittadini, che il campo elettromagnetico è una res, è una cosa, perché la cosa non è solo la sostanza, quella che tu vedi, è anche il nemico invisibile, il sesso degli angeli, mi ricordo si diceva quando andavamo a Cesano a parlare alla gente, quindi è una res che crea un danno, molestie, interferenze, cancelli che si aprono, danni alla salute. Intanto abbiamo incassato il 674 che è il getto pericoloso di cose a livello penale ed è stato riconosciuto che il cambio elettromagnetico produce quel tipo di danno. Quindi attenzione, la Cassazione dice anche se si rispetta il limite, il 6 volt metro, il 6 volt metro, questo non vuol dire che è tutto a norma, non è successo nulla e non c'è pregiudizio. Io te lo dico, che c'è il pregiudizio, ti dimostro che è un'incidenza tumorale abnorma, mi avvalgo di scienziati imparziali e quindi mi dirai che effettivamente c'è un problema di danno. Anche in questo senso vi ho riportato della Cassazione civile e anche penale che riporta questa problematica. ora, addirittura noi abbiamo una Cassazione di una Corte d'Appello di Milano per la quale per l'istruttoria è sufficiente il dato statistico e gli studi scientifici, cioè aver dato prova che vi è la possibilità che si possa realizzare un danno. Ancora più importante poi appare la sentenza del Tribunale di Brescia per quanto riguarda l'insorgenza di un tumore. Chiaramente io non mi occuperò di dati scientifici perché la mia professione è quella dell'avvocato quindi ci sono gli scienziati che devono sostenere poi l'attività del legale e comunque riporto il tipo di tumore il neurinoma del ganglio di Gasser che è stato individuato con questa sentenza del Tribunale di Brescia con una correlazione tra questo tipo di tumore e la prolungata esposizione ai campi elettromagnetici. Laddove il CTU ha semplicemente dimostrato il numero di studi scientifici che esistono su questa materia quindi ad esempio portando tutti gli studi che sono stati versati in questo convegno e in altri convegni dove si dice che vi è la possibilità di un'insorgenza. Tra le altre cose vi è il problema della svalutazione degli immobili perché a volte diciamo sembrerebbe che paradossalmente le persone sono più sensibili a questo problema che è un problema alla salute che poi si verifica dopo tanto tempo e dove come diceva sempre il funzionario di prima io non mi chiedo che cosa l'ha provocato certo il dolore è così grande oramai è accaduto c'è una malattia grave vai a trovare la causa di quella malattia diventa una cosa impossibile per i tumori non si capisce mai qual è la causa eppure lo sappiamo quali sono le cause sono il profondo inquinamento in cui noi viviamo e dove noi non applichiamo mai un principio di prevenzione nel momento poi della crisi della patologia acuta risulterà difficilissimo rinvenirle la causa quindi il problema invece che poi sembra anche toccare i cittadini è quella della svalutazione dell'immobile cioè il fatto che un edificio una palazzina un'abitazione si trovi vicinissima a un impianto radiobase radar eccetera e che quindi non è più sul mercato non ha più quel valore crea poi il problema di andare a fare una causa civile per chiedere il risarcimento dei danni anche in questo la cassazione si è pronunciata la cassazione civile in materia di elettrodotti ma è chiaro che potrebbe essere un impianto radiobase o radar eccetera dove si dice che proprio anche la presenza di questi cambi elettromagnetici generati in questo caso da elettrodotti può far ridurre il prezzo del bene in questo caso non è purtroppo il bene salute ma il bene di un immobile e quindi chiederne la differenza quindi che dire io in genere quando faccio questi tipi di interventi ritengo che la cosa più importante sia proprio l'informazione sarà anche perché siamo stati tra quelli noi legali della mia associazione che è il Codacons che abbiamo portato all'attenzione delle persone il problema anche dell'arsenico nell'acqua potabile un problema di cui magari i cittadini non erano proprio a conoscenza e poi hanno saputo che bevevano acqua potabile con arsenico dentro con ben tre deroghe da parte del legislatore italiano e quindi hanno deciso di rivendicare i propri diritti però se nessuno glielo diceva cioè se non venivano informati se non c'erano i scienziati i ricercatori i volontari in questo ambito avrebbero continuato a bere acqua con l'arsenico per anni con delle palesi responsabilità della pubblica amministrazione ora l'indagine epidemiologica chi la deve fare nel caso di Radio Cesano io mi chiedo per quale motivo si è dovuto andare davanti a una procura della Repubblica di Roma che ha dovuto chiedere un'indagine epidemiologica e non l'abbia fatto il Ministero della Salute e gli enti competenti in una fase preventiva perché deve essere sempre un giudice che ben venga ma che dovrebbe essere l'estrema razio a dover fare un'indagine su un problema così importante come in questo caso di potenza piccina peraltro è noto a tutti anche per Radio Cesano per l'omicidio colposo l'indagine in corso si dice ah non si sa può essere la base militare che l'avvicina oppure può darsi che sulle antenne però tutto rimane immutato quindi credo che bisogna lavorare attraverso diciamo la prevenzione e la precauzione in questo caso nel caso di questo impianto che cosa si chiede ho sentito dire che si chiede lo spegnimento ma è ovvio che si dovrà arrivare allo spegnimento perché se vi è questa impossibilità di comunicazione e non vengono scambiati i dati e non viene fatta un'indagine imparziale indipendente autonoma sul territorio tenendo conto dei fattori come diceva il Signore delle concause ma se non c'è neanche il registro dei tumori e sono i cittadini che vanno a fare la ricerca come è stato pure a Cesano dove c'era un medico generico che ha raccolto tutti i dati cosa è? Cos'è il volontariato? Non ho capito si spendono migliaia di euro milioni di euro per cose inesistenti in questo caso invece sulla salute e sull'istruzione non si spende nulla quindi benvengano convegni come questi che a noi avvocati sono utilissimi perché ci servono poi nei processi per portare la documentazione e benvenga per voi l'informazione che viene data coraggiosamente per diciamo delle scelte importanti e portate i documenti pure alle procure così magari anche i nostri giudici leggeranno e capiranno di che cosa parliamo perché può anche darsi che non ne abbiano neanche conoscenza grazie 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 grazie